Con grande soddisfazione e orgoglio personale, ma anche di squadra, siamo qui a parlare della semifinale dei play-off di Serie B, che per noi, come la nostra realtà, che il primo anno facciamo la Serie B2, è veramente tanta roba, visto anche tutte le complicanze che abbiamo avuto, ci stiamo preparando per questa partita, non sarà semplice come nessuna partita, il Cerea è una squadra esperta, completa, attacca con tutti gli attaccanti, ha una buona capacità di battuta e quindi sulla carta sarà dura. Anche se loro si sono classificati come quarte del loro girone, hanno battuto comunque Peschiera, che è la prima del nostro girone, e quindi questo dà la misura di questa squadra. Noi ci stiamo preparando al meglio, avevamo chiesto di avere un giorno in più perché avevamo qualche problema, ma purtroppo non siamo riusciti a farla il giovedì e quindi ci toccherà andare mercoledì a giocare a Cerea l'andata e poi giocheremo sabato il ritorno da noi. Le ragazze le vedo belle grintose, vediamo se sappiamo mantenere questa capacità di stare sul pezzo quando giochiamo. E niente, poi le partite sono da vivere di partita in partita, però vabbè, vincere aiuta a vincere e chiaramente la fame viene mangiando, quindi noi anche se siamo contenti e soddisfatti di essere già qui, per noi chiaramente è un traguardo enorme, chiaramente puntiamo ad arrivare alla finale dei play-off.